Ciao da Avsim! Tra le sliding doors che abbiamo attraversato dopo Napoli-Juventus, cioè tra le cose che sono cambiate, che sarebbero successe, ma che per colpa della sconfitta della Juve contro Napoli non sono successe, c'è anche questo video in cui vi parlo delle parole e delle non parole di Antonio Conte in questi ultimi giorni. E sì perché lunedì 27 gennaio avrei voluto, avrei assolutamente voluto fare un video sulla fuga di Antonio Conte da San Siro post pareggio contro il Cagliari, lo sapete, lo avete visto. Che cosa è successo? È successo intanto che, anzi, partiamo da pre-Cagliari perché già prima della partita con il Cagliari ci sono successe cose che vorrei commentare da parte di Antonio Conte e che non ho ancora fatto. Ripeto, ci arrivo in ritardo ma non è ancora tardi perché stasera tra poco c'è ovviamente Inter-Fiorentina di Coppa Italia, quarto di finale, gara secca e c'è anche il discorso che ieri Conte la conferenza stampa non l'ha proprio fatta. Ma in conferenza stampa pre-Cagliari Conte si era lamentato degli acquisti dell'Inter ed è stata una cosa esilarante, ma una cosa tipica sua che noi abbiamo apprezzato, tra virgolette, si fa per dire, per modo di dire anche alla Juventus. Quando con l'acquisto di Tevez, Tevez, Tevez e Llorente si lamentò perché la Juventus aveva ceduto Matri e Giaccherini e disse che la Juve si era indebolita. Io guardo agli acquisti ma guardo anche alle cessioni, secondo me con la cessione di Matri e Giaccherini fatte per poter pagare quello che è costato, quello che sono costati Llorente e Tevez ma soprattutto Tevez, ci siamo indeboliti. Cioè è assurdo. E ha detto la stessa cosa adesso, ha detto la stessa cosa dicendo io guardo gli acquisti ma dovete guardare anche che non sono giocatori del Real Madrid, sono giocatori che vanno riatletizzati, sono giocatori che vanno inseriti gradualmente, bisogna vedere come renderanno. Insomma sembra quasi che Conte stesse facendo, stia facendo un favore all'Inter ad allenare giocatori che ha chiesto lui e che l'Inter puntualmente è andato a prendere. E' veramente pazzesco. Conte è veramente incommensurabile, è esilarante, fa ridere se non facesse anche un po' incazzare. Non tanto me, anzi io me la rido perché sono giuventino e non ho mai, e non ho mai amato Antonio Conte, mai, neanche quando era calciatore della mia squadra. Non mi è mai stato simpatico, a pelle proprio, a sensazione, non è mai stato, non ho mai avuto feeling con lui. Quando poi ha allenato la Juventus ovviamente mi ha fatto gioire, mi ha fatto esultare e lo ringrazio ancora per quello che ha fatto, però andando a ridimensionare e a contestualizzare la sua persona, la sua figura, questi ringraziamenti li lascio un po' da parte. E quindi poi queste dichiarazioni che sinceramente sarebbero da isonero, per me sono dichiarazioni da isonero, cioè ti fanno la campagna acquisti mirata che vuoi tu e tu vai in conferenza stampa, non dal dirigente, ma in conferenza stampa, a sminuire gli acquisti che poi cosa deve dire Ashley Young, cosa deve dire Moses, devi andare da Conte a dire senti ma tu come ti permetti, non avrò giocato nel Real Madrid ma vengo dal Manchester United e ho vinto quello che ho vinto, io ho fatto la carriera che ho fatto, come ti permetti di sminuirmi davanti ai giornalisti dicendo che bisogna vedere se sono forti o no? Ovviamente questo non è successo probabilmente perché Young è un professionista e anche perché forse all'interno della società Inter, soprattutto Beppe Marotta che conosce molto bene Conte, avrà detto, avranno detto lasciate perdere perché lui fa così, è un po' così, un po' come la moglie che giustifica il marito davanti agli ospiti perché il marito è un po' bulbero e si è comportato male a cena. E Marotta infatti ha fatto la stessa cosa, ha fatto proprio questo, cioè perché pre-Inter Cagliari cosa ha detto? Nelle dichiarazioni a The Zone, le dichiarazioni di Conte sono in una scelta comunicativa in linea con un allenatore molto esperto, cioè è una supercazzola, che vuol dire? Vuol dire ha sbagliato ma non posso dirlo, vuol dire lo giustifico perché il mio allenatore non posso fare altrimenti. Cioè praticamente lo ha salvato da ulteriori critiche e ha evitato di lamentarsi, d'altra parte sarebbe stato uguale a Conte Marotta se si fosse lamentato davanti ai microfoni, quindi bene ha fatto, magari privatamente gliel'ha detto dicendo oh ma vuoi darci un po' di pace, ti abbiamo preso chi volevi e adesso fai tutta questa sceneggiata. Sceneggiata che è proseguita in maniera molto più significativa con il pareggio perché l'abbiamo visto tutti, tutta la panchina dell'Inter in campo, tutta la panchina dell'Inter in campo ad accerchiare l'arbitro, ma non erano gli giuventini che accerchiavano l'arbitro per protestare, raccontatemi un po' sta cosa. Tutta la panchina con l'imbarazzo, l'imbarazzo di Oriali, team manager dell'Inter e contemporaneamente della nazionale quindi anche dipendente FIGC che si frappone tra i suoi colleghi, la sua squadra, quindi l'Inter Conte compreso e l'arbitro di cui fondamentalmente è anche responsabile se vogliamo, che team manager della nazionale con l'AIA che dipende dalla FIGC insomma è qualcosa di veramente un conflitto di interessi esplosivo, però vabbè che volete farci? Mica della Juve-Oreali che ha doppio incarico, lo può fare, lo può fare, ma al di là di Oriali Conte è molto aggressivo nei confronti dell'arbitro Manganiello, molto aggressivo, ha muso duro e poi è scappato. Poi siamo stati ad aspettare, io avevo fatto il video post partita, e poi ero su Dason a vedere, nel frattempo che usciva il mio video post Intercaiari di domenica, a vedere ma Conte esce, cosa dirà, voglio sentire cosa dice Conte. E aspetta adesso, aspetta un po', aspetta un po', Dason a momenti ha mandato in onda tutto il palinzesto per aspettare, poi diretta le otte, Davide Bernardi con Balzaretti anche che era con le otte, l'ho dovuto dire no, Conte ha lasciato lo stadio, non rilascerà nessuna intervista. Poi siamo venuti a sapere che in realtà Conte ha avuto un attacco di tachicardia, o comunque non si è sentito bene, e questo ha detto il suo vice, per questo non ha rilasciato interviste. Quindi speriamo che Conte stia benissimo, che effettivamente se ha avuto questo attacco, questo malessere, gli sia passato subito e alla grande, adesso stia bene, però qualcuno mi dovrà spiegare quanto dura questo malessere, perché se è solo per quello che Conte non è andato a rilasciare dichiarazioni, perché ieri non ha fatto la conferenza stampa pre-Fiorentina? E qui veniamo ad un discorso che trascende dall'atteggiamento di Conte e dalla serenità o meno dell'ambiente Inter. Nel frattempo che hanno ufficializzato Eriksen e io sto ancora applaudendo, sto ancora applaudendo per il grande colpo Christian Eriksen all'Inter, e ringrazio l'Inter per aver portato Eriksen in Serie A, Eriksen in Italia, e sono molto felice da Juventino. Mentre continua ad applaudire, mentre l'Inter dimostra grande forza sul mercato nell'aver preso a 20 milioni, un giocatore sì in scadenza, ma che ne vale 90, e che è diventato subito il giocatore più prezioso della Serie A, scavalcando Dybala che era primo con 85, fonte Transfermarkt. Mentre sto ancora applaudendo, al di là del discorso serenità dell'ambiente Inter, che non c'è, che chiaramente non c'è, io credo che Conte abbia fatto due volte, due volte una cosa gravissima, gravissima, perché non puoi sottrarti ai giornalisti, non lo puoi fare, e lui lo deve sapere bene perché ha giocato a calcio e allena da tanti anni, ma non esiste mai, non esiste mai, devi avere qualche guaio proprio grave a livello personale per dire scusatemi non ce la faccio, me ne devo andare, ma per tutti gli altri casi, vinci, pareggi, perdi, l'arbitro si comporta bene, l'arbitro si comporta male, hai la sfortuna, hai la fortuna, qualunque cosa succeda, anche solo per dire buonasera, tu devi andare davanti ai microfoni e alle telecamere, perché devi consentire ai giornalisti, che hanno tra l'altro degli accordi pagati con la Lega Serie A, le TV con i club, o meglio, le TV con la Lega Serie A, e i soldi delle TV finiscono ai club, devi consentire loro di fare il loro lavoro, come a te è consentito di fare il tuo. Quindi Conte imperdonabile, indifendibile, ingiustificabile in tutti questi giorni, da sabato fino a ieri, martedì, passando per domenica e vediamo, vediamo tra poco, vediamo stasera, vediamo stasera cosa succederà, perché immagino a questo punto, se tanto mi dà tanto, che se l'Inter non succederà, ma dovesse essere eliminata dalla Coppa Italia, Conte non si presenta neanche stavolta, per la terza volta di fila, a parlare ai microfoni, o se si presenta, si lamenterà di qualche altra questione, vedremo. Ditemi come la pensate nei commenti, vi ho detto come la penso io, grazie per la vostra attenzione, like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche, ci vediamo molto presto, e sempre forza Juve! Grazie per la visione!